Ancora un incendio all'ex Valley Susa arrivare all'Ocanavese. L'allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì 1 ottobre intorno alle 17.30 per il fumo copioso che usciva da uno dei capannoni abbandonati. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Rivarolo Canavese, i vigili del fuoco di Brea e Rivarolo che hanno domato e spento le fiamme. La polizia locale ora visionerà le immagini delle videocamere di sorveglianza per risalire gli autori del gesto. Con ogni probabilità si tratta di una bravata simile a quella già accaduta nei giorni scorsi. le fumo coppia di Davide Cale. Sì, le fumo coppia di Cale. La polizia locale è statata che ci sono citato. Non ho bisogno di fare la polizia locale. La polizia locale è costruita. La polizia locale è costruita. La polizia locale è costruita. La polizia locale è costruita in un contenitore. Grazie a tutti.